Salve amici e amiche mie! Come vedete ho qui della magnifica frutta che la natura ci offre in questo periodo autunnale e invernale come le pere, le mele, i cachi, il melograno, l'uva, insomma tutta quella buonissima frutta piena e ricca di vitamine e sali minerali che fanno bene alla nostra salute. Quindi perché non approfittarne? Infatti ne approfitteremo perché oggi preparerò con voi qualcosa di sfizioso, di buono, come si suol dire, delle sfogliatine appunto alle mele e pere poi naturalmente si può aggiungere anche dell'altra frutta come noi preferiamo. È una ricetta semplicissima, veramente molto semplice da preparare e anche molto veloce. E allora approfittiamo, iniziamo subito questa semplice buona preparazione vi ricordo di non saltare i passaggi per avere un ottimo risultato e che gli ingredienti li trovate sia sul video che sotto in descrizione ed ora iniziamo. Sbucciamo e tagliamo a dadini una mela e una pera due spicchi di mele le tagliamo con la buccia così diamo anche un po' di colore alle nostre sfogliatine ed ora passiamo alla pera alla frutta tagliata aggiungo anche una manciatina di uva sultanina bagnata e strizzata ok? Quindi è stata idratata benissimo un po' di succo di limone questo serve per non far annerire la frutta e mescoliamo il tutto che bella macedonia ed ecco qua come avrete notato non ho aggiunto zucchero alla frutta perché è che la frutta già lo contiene di per sé però per chi volesse può aggiungere un cucchiaio di zucchero detto questo mettiamo da parte e per questa preparazione abbiamo bisogno di un rotolo di pasta sfoglia semplice no? quindi andiamo a srotolare il foglio srotolato il foglio con un coltello andiamo a tagliare dei rettangoli o dei quadrati in questo modo quindi partiamo dal centro e andiamo per il lungo così e otteniamo sei quadrati spennelliamo la base dei nostri quadratini con un po' di marmellata potete utilizzare qualsiasi tipo di marmellata o di confettura che più vi piace io avevo a disposizione quella di ciliegie metterò questa però c'è anche quella di albicocca insomma di fragole quella che più vi piace e quindi andiamo a fare così solo la parte centrale mi raccomando il bordo no e adesso aggiungiamo i pezzetti di frutta benissimo preparato i quadratini adesso non ci resta che arrotolare intorno alla nostra sfoglia in questo modo e quindi andiamo a fare una sorta di guscio ok spolverizziamo la superficie con un pizzico di cannella questo naturalmente è facoltativo se non vi piace non la mettete però un pizzico ci sta proprio bene ok a questo punto non ci resta che far scivolare su una placca da forno le nostre sfogliatine come facciamo? e beh ci arrangiamo facciamo in questo modo vedete? ed ecco qua bellissimo e a questo punto non ci resta che infornare dimenticavo se vi avanza qualche cucchiaiata di frutta fate come me la mangiamo le sfogliatine sono uscite dal forno le ho infornate a 210 gradi per 20 minuti forno ventilato se avete il forno statico aumentate di qualche grado la temperatura e poi come dico sempre ognuno conosce il proprio forno quindi regolatevi di conseguenza detto questo le facciamo raffreddare e poi le assaggiamo le sfogliatine si sono raffreddate non ci resta che spolverizzare con un velo di zucchero a velo e poi trasferirle su un vassoio da portata e poi E adesso assaggio Che bella Deliziosa Amici carissimi Dopo questo delizioso assaggio Io vi lascio Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta E come dico sempre Vi do un abbraccio Un arrivederci E un grazie a tutti Da Sia Franca Alla prossima